Perché le politiche portate avanti, le politiche delle regalie e dei piccoli bonus non servono a niente, gli è funzionato a Renzi con gli 80 euro una volta, poi dopo gli italiani si sono resi conto che erano solamente delle piccole regalie, ma non cose strutturali, perché condivido, se non si fanno delle proposte e si prendono delle iniziative strutturali non si riprenderà mai il mercato del lavoro. Noi abbiamo le aziende, io penso alla provincia di Bologna, che fino quest'anno al 19 di settembre hanno pagato le tasse fra quelle statali e quelle comunali, perché poi magari ti abbassano un attimo quelle statali e poi sono obbligati i comuni a aumentare le loro perché non gli arrivano i soldi da Roma. Se non si fanno queste, la burocrazia non diminuisce, mi ricordo che anche qua prima delle ferie parlavamo proprio di una burocrazia complessissima, che comunque è un costo per le aziende, non si va da nessuna parte, non si può pensare di fare una riforma in cui abbiamo i voucher che stanno aumentando tantissimo, poi vengono messi dentro i dati occupazionali anche la persona che ha lavorato magari un'ora e ha preso un voucher il mese prima e ce lo vendono poi dopo nei dati come quelli dell'occupazione. C'è un serio problema, è bello sentire come prima una persona giovane che dice c'è possibilità anche in Italia comunque di trovare un futuro, il vero peccato è che pochi giovani italiani pensano questo, non vedono un futuro qua e magari vanno all'estero e vanno a fare dei lavori che non sono neanche questi grandi lavori. Voi come Lega, al di là della flat tax che è una delle proposte della Lega, al di là dell'abolizione della Fornero, da questo punto di vista, per dare lavoro ai giovani che cosa proponete? Ah ma già se si attuasse la flat tax e la riforma Fornero venisse totalmente cancellata, libererebbe energie, libererebbe fondi, libererebbe tutta quella situazione che aiuterebbe poi anche le banche perché anche tutta la situazione legata alle banche sicuramente sono stati prestiti fatti anche ad amici degli amici, però c'è stato un problema anche per tutte quelle aziende che hanno chiesto dei prestiti e non sono più riusciti a rientrare e questo a causa di tassazioni che sono vergognose nel nostro Stato.